Dove stiamo? Siamo a Villa Massari, a Voghiera, tra Voghiera e Voghenza. Siamo al matrimonio di Stefano Muroni, che è una personalità molto conosciuta, Ferrara. È un onore per noi averlo qua, che abbia scelto di celebrare il suo matrimonio da noi. Per noi è un giorno molto importante perché iniziamo l'attività che abbiamo previsto a fronte dei lavori che abbiamo fatto durante l'ultimo anno di ristrutturazione di questa struttura. Lavori spinti dal fatto che abbiamo una forte consapevolezza che questo è un patrimonio del territorio e come proprietario abbiamo non solo il privilegio, ma anche la responsabilità di valorizzarlo e renderlo fruibile al pubblico. Quindi chi vorrà sposarsi oppure anche semplicemente fare una cerimonia che ricorda un anniversario o anche fare un convegno, potrà chiedere a lei di poter utilizzare questa struttura. Senz'altro, siamo aperti a ogni tipo di evento che si adatti alla struttura e per cui speriamo che questo nostro progetto abbia successo e che riscuota interesse, specialmente nel territorio a cui siamo molto legati. approfitto dell'occasione per ringraziare il Comune di Boghiera che c'è stato molto di supporto per tutto l'arco di questo cantiere che è tutto rincorso perché non prima mai potendo vedere la dimensione della villa, il nostro intento è di continuare a investire sulla struttura. Quindi ringrazio il Comune di Boghiera, la sovrintendenza e tutti quanti che ci hanno supportato, le imprese, tutti quanti. Grazie a tutti.